Hanno fatto passare una serata meravigliosa, purtroppo uno vince e tre perdono, questa è la regola della gara, del challenge e questa sera Marcella Zarin tra poco dirà chi ha vinto. È stata molto serrata, anche quei punteggi sono molto vicini, non c'è stata una band che ha sorpassato le altre di tanto i giudici hanno lavorato molto bene, secondo me, con molto criterio e la serata direi che mi è piaciuta molto. E allora Max che insieme a Stefani due anni fa a Potenza hanno vinto il challenge italiano, sono poi andati in Europa non vi siete più fermati da quella sera e non vi fermerete ancora, ma adesso dici chi è che si è aggiudicato questa edizione dell'Italian Blues Challenge. L'ottima Giulia ha dato ancora una volta un segnale molto forte in Italia. Vince la nostra edizione del challenge, i The Drive! Te lo sanno solo. Vedi! 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 Naturalmente il maniero migliore del numero questo momento è sentirevi suonare ancora un brano e ancora spesso che vi ha portato a scegliarlo. e mi piaccia di amare la vostra amica, The Drive! Grazie! Grazie!